Bella ragazzuoli bentornati qui sul canale di grana sono Senk mi devo sbrigare perchè già ho registrato un video però nooo non l'aveva registrato il pvr quindi vaffanculo mi devo sbrigare di fare un video perchè ovviamente devo uscire oggi ho provato a renderizzare quel cazzo di video di fifa che vi devo portare invece col cazzo ho renderizzato tutto nero dopo tipo mezzo video quindi vaffanculo sto sclerando a merda quindi non lo so facciamo un che ne so tutti contro tutti veloce bam così molto random se magari lo trova probabilmente no però va bene è uguale non fa niente basta che mi trovi una cazzo di partita per favore grazie grava favela iniziata non fa niente va bene comunque perchè l'importante è essere se stessi e non so cosa cazzo sto dicendo va bene così andiamo nelle favela a rompere i culi ai negri vai subito bam così col cecchino 8 e 50 e vabbè diciamo che questa non va affatto bene come partita però non fa niente ne metteremo un'altra subito dopo la prossima che inizia uno bello così non sono più abituato a fare i quick che dov'è madonna 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 che era 1500 il minimo il massimo come cazzo era non mi ricordo più niente di sto gioco no porca troia gli hitmarker del cazzo ficcato in un culo hitmarker madonna quanto è lento tanto sta qui dietro no non sta qua dietro ovviamente 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 me lo devono ficcare al culo come le pecore morte madonna oh ma do cazzo state tutti quanti c'è ma porca puttana è una cosa incredibile è una cosa incredibile incredibile ancora ma sempre dietro tutti i froci sto tutti i froci tutti dietro dove devono mettere mamma mia 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 tiro qualche madonna adesso madonna lezzo lezzo di merda porca troia riuscirò a fare una cazzo di kill vai non mi rompete il cazzo per favore guardate ce l'avevo davanti dio perché perché devono succedere queste cose del cazzo c'ho pure la tosse fanculo che cazzo non so che classe possiamo fare dai madonna 43 secondi di intermezzo ma che cazzo ve fumate ma in 43 secondi uno ci si può fare una pippa fra un po' e voi mettete 43 secondi di intermezzo ma porca puttana e poi quando uno si deve sbrigà vabbè andate a bere un goccio d'acqua sono tornato ah porca troia ho bevuto troppo velocemente altri 8 secondi ma mi stai prendendo per il culo vai subito qua dentro stanno dove sta è un uomo è un uomo non è un uomo non è un uomo bella figura di merda mamma mia mamma mia dove stanno dove stanno bam bam subito così grande è prima kill primo sangue la squadra nemica ha ucciso il drago porca troia ah non era il primo sangue tra l'altro vai vai ma c'è ancora gente a livello 1 grande complimenti si così così vienmo a cercare vienmo a cercare vai dove sta dai cristo dio madonna madonna che tra l'altro io ho il microfono troppo vicino quindi ogni volta che urlo voi vi spaccate i timpani probabilmente cristo che cazzo è aaaah mamma mia mamma mia no cioè è proprio immortale l'rpd è la prima volta che lo uso in 10 anni che gioco a questo cazzo di gioco che me l'ha inculata la kill pezzo di merda ma porca troia pensavo non mi avesse visto ma guardate oh uh 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 no no e non potete stare tutti con ultima speranza del cazzo eh cristo santo madonna lezza che tra l'altro pare una bestemmia ma non lo è vi assicuro oddio sto a 4 di fila vai 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 ricarica veloce questo cazzo questo è gioco di prestigio mamma mia mamma mia xenic in serie xenic in serie ho paura uscire da qua che cazzo stai a farla ma come cazzo c'è se sale là ma non c'ho mai visto salire mamma mia te sei il primo che muore porca troia te lo assicuro te sei il primo che muore guardalo 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 pezzo di merda eh così ti impari figlio di troia uh chi è eeeh mamma mia che pro player che pro player che pro player vabbè io posso spara quanti cazzo dei colpi mi pare questo lato cazzo è uscito oh no vabbè come cazzo ha fatto no puttana eva ah ma io c'ho l'uav e c'ho anche gli approvvigionamenti che se butto adesso non prenderò sicuramente non so aiuto aiuto c'ho paura di morire dai cristo santissimo porcaccia la troia non so manco che cazzo è che cos'è contrattacco a v ma dame che cazzo ne so un bel harrier un qualcosa almeno c'è mi diverto madonna mia che li becco che spawnano da tutte le parti porca troia che palle non mi riesco più a muove ah 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 oddio oddio ce ne sta un altro qua oddio 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 spara si daie quanto cazzo lagga madonna mia cioè è peggio di jumper ecco migrazione nostra annullata vaffanculo stava a fare una bella partita vabbè ragazzi mi dispiace ma devo finirla qua per forza assolutamente altrimenti questo video non lo vedrete vi ricordo di iscrivervi alla pagina facebook seguiteci sui nostri propri video personali se vi va e mi raccomando lasciate un like un commento e non lo so cantate mentre guardate il video da granas è tutto che sai anche tutto sono più veloce di quella che annuncia i farmaci e tutto quanto bella si bella bella bella